riusciuto ciao a mezzo benvenuti in un episodio di ftb dove ci dobbiamo dentro le app e non si sa perché... ah si vabbè eh cazzo ha combinato intanto a parte che abbiamo più polline che altro e un botto di queste mable, common, ci ha fatto il putiferio eh... queste qua stanno continuando ad andare all'infinito ah allora chi queen, ok queste qua stanno andando all'infinito queste la fanno cazzo a mattina ok ma oggi non parliamo di api per fortuna eh si lo so lo so, lo sapevo lo so, lo sapevo, ok non volete che parla di api perché si sono un po' noiose eh... volevo parlare di un commento che mi è arrivato allora mi avete detto che volete vedere li advanced questi due eh... e io vi ho risposto gentilmente che li avrei fatto per l'endel dragon visto che il prossimo episodio dobbiamo prepararci e che sta spadina del cazzo eh... fa cagare ho pensato li facciamo e ci portiamo via tutto spada questa, questa l'arco si ok ma perché farne una solo cioè la chainsaw di diamante e farci anche l'advanced diamondrill quindi li facciamo tutti e due contenti? advanced eccoli qua oh che figata allora hanno 5 milioni di energie in più e si fanno in questo modo un diamante overclock che non ricordo più che vale eh... vedete vedete queste cose mi fanno veramente cazzare c'è proprio non ho parole advanced circuit benissimo allora 1,2 2,2 2,2 2,2 e... facciamo 4 di questo mi sembra quindi se è per 4 4,16 poi poi un 4 8 di questi e gli advanced circuit devo farli ok facciamo intanto quelli qua ci manca la gomma lo sta finendo ve lo dico subito è finita è finita è finita no ma noi avevamo capito no gli ho finiti tutti allora dove minchiai qua facciamo 1 2 3 4 poi vediamo cosa mi serve ma per gli advanced cacchi mi servono altri di electronic circuit adesso che ci penso no che parla troppe troppe robe da fare allora qua ne ho due manco uno manco uno molto bene eh allora ferro raffinato che dovrei averne una quantità industriali stavo scherzando redstone vaffanculo prendo uno stack se ne fa volutere tanto qua saremo pieni ma amen allora ne va qua qua va beh e il ferro raffinato quattro cinque ne abbiamo una ne facciamo una sicura allora poi ci servono due di questi con questi qua questi qua questi qua questi qua hop e ne ho fatti cinque sono un coglione perché allora ne abbiamo due giusti poi due di questi mi sembra anche questo dovrebbe essere no questo qua senza diamante ok uno solo ci serve questo intanto mettiamo in mezzo e qua ci siamo gli overclocker gli overclocker erano facili l'altra volta erano ehm gli overclocker come cacchio si facevano col team balangata di team boom 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 questi hop cambia sta roba mettiamo dentro questo facciamo 16 tanto uno in più uno in meno l'altra volta non varia ok questo 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 poi mi servono i cavi e questi qua quindi mi servono tanti soprattutto i cavi che non ho ah non ho copper che culo a dire la verità non ho copper veramente ma vabbè devo ritrasmutarlo da capo bene ma ne abbiamo un po' di copper si semi tanti semi niente copper allora andiamo qui vediamo se troviamo qualche pezzo di copper magari se abbiamo il culo proprio sfacciato proprio vedo che sono sicuro di trovare dei pezzi di copper in questa in queste circostanze vaffanculo va allora hop che coglione ah si perché da fare a tutti ingranagini ah 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 ora ci divertiamo che cazzeruola e quanti me ne sembra un botto 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 per questo e tre per l'altro perfetto non mi basta ah ah ok allora vediamo questo e questi qua e qua ci facciamo la motosega che è quella più importante diciamo per ora eccola qua motosega di diamante che contiene 5000 in più pensavo di più e qua mi mancano dei cavi per colpa del copper e mi manca anche la gomma la gomma non ho problema gli alberi qua fuori però è il copper ah 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 non mi sono neanche accorto di questi cazzo tutti i miei tutti i miei il mio tesoro allora dove cacchio era ah qua sulla no qua via questo e dammi questi quattro solo però la gomma per fortuna ce l'abbiamo per il momento allora questo 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 mi manca due cose di gomma vabbè e mi mancano anche questi che bello allora due ce li abbiamo mi manca un ultimo di quello uno due tre quattro non ricordo più quando me ne fa me ne fa uno di verità quindi ma da cacca me da uno quante me ne servono un altro che figata ste cose ok e ne ho prendere un po' di gomma qua via ecco chi eh chi è che chi mi faceva la gomma e cosi riciclaggio di là che che se non erro dovrebbe aver guarda qua gomma se non erro me ne servono due dovrebbe avermi fatto un botto diamanti o no buono lo so dipende dal server se è aperto mi sembra che non è stato aperto questi giorni scemo è mio sì non è stato aperto questi giorni ehm ok andiamo qui andiamo qui e ci facciamo l'ultimo che è il diamond drill avanza che è così cioè cosa cambia cambia la strichetta blu e ognuno utilizza i suoi cacchi allora andiamo giù andiamo a ricaricare i 5000 rimanenti e andiamo a vedere cosa cambia zacc velocità di ricaricamento al doppio perfetto è molto più veloce a caricare ma forse anche effetto della mf mf quindi non bisogna basarsi su questo e la velocità di scavo è più veloce se il gioco non mi si blocca sì dai è più veloce molto bene e si scarica uguale perfetto allora qua la gomma ce l'abbiamo per fortuna abbiamo anche l'estrattore quindi basterebbe whoop dov'è qua one sta prendo eee eee ciu ciu e for e tossele dov'è qua oop poi ne abbiamo un po' un'altra qua un'altra qua un'altra qua un'altra qua un'altra qua eccola la ecco ma porco che bello il jetpack devo metterlo e qua dovrebbe essere bassa esatto e quanta gioco? 21 troppa per 3 fa un bel po' si il giochetto quello che vi avevo detto che che facevo col pane vabbè mmm un po' più avanti perchè adesso 50 iscritti verrebbe troppo velocemente 50 60 chissà aumentano tutti i giorni ormai vediamo qua energia ce ne cacca però qua dovrebbe esserci uno stack e passa di diamanti quindi siamo contenti entro lo stesso quindi prossima volta abbiamo la gravice spiena magari andiamo a ricaricare il tutto andiamo a affrontare sto maledetto maledettissimo drago una cosa mi viene da dire ma l'armatura resiste all'esplosione dei quadrati cubici biscari la quelli cavoli la cioè perchè pensandoci bene se mi ricordo quei cosi la esplodevano però non mi ricordo se questa armatura è resistente beh la lava è resistente volete guardare? beh si volete guardare volete vedere? boom ve lo faccio vedere magari un po' poco si vabbè finchè non ho tutta l'armatura dobbiamo mettere su anche questa ora abbiamo tutta l'armatura a livello al 100 perchè non vola ah 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 no non è resistente alla lava perfetto siamo molto molto orgogliosi di questa ma vaffanculo perfetto quindi prossima volta andiamo a affrontare sto lago sperando che non lago tutto lago tutto ma aspettate un attimo veniamo a prepararci allora il biwax buttendo in due parole qua via fare è vale fare è vale fare allora le freccine le mettiamo qua questo qua le mettiamo qua questo qua lo mettiamo via questo lo lasciamo qua perchè ci serve questo magari lo lasciamo a casa questa anche non mi serve la terra non si sa mai questa nano saber avevo la mezza intenzione di portarmela via come arma è carica è carica abbiamo tre armi e ora quattro con l'arco però vabbè patate ok il trip trip qua quando c'è qualcosa che mi serva l'arco l'arco crede che funziona anche col drago questa ender dragon si chiama ender dragon minca se funziona con l'ender dragon uno e poi possiamo lasciare la casa evitiamo perdite inutili in caso di morte vabbè raga eh 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 trip trap si no no perchè queste cose mi fanno incassare trip trap è questo via mettiamo via il tutto questo qua le mie frecce le lasciamo qua le torce magari le mettiamo qua l'ender chest portarla via cioè se la perdo non è una perdita enorme però questa qua la provo se no la butto via tanto costa un silver e il silver non ho problemi eh per un silver poi se è uno stack di silver sarebbe un po' più problemi ma problema zero cosa ho visto che cacchio è questo bello quindi per questo episodio è tutto abbiamo fatto gli advanced shinsu e gli advanced diamond drill quindi da dj ciao la prossima volta ender dragon